Ora vi svelo un grande segreto, sono pronto a farmi criticare ma il risultato sarà eccellente. Lo so, tante volte l'ho visto fare, i funghi porcini congelati li lasciate così sul level in frigorifero e tirano fuori tutta l'acqua e poi diventano amari. E poi mi scrivete e mi dite perché si attaccano alla padella, perché sono amari, perché si sfaldano. Ora faccio i miei funghi in padella, subito nell'acqua, v'ho stupito eh, come faccio i funghi in padella nell'acqua. Rapporto 1 a 5, che significa? Un chilo di funghi porcini in 5 litri di acqua, quindi non deve mai freddarsi l'acqua, il sale tanto di più del normale. Cambio la densità dell'acqua, perché l'acqua deve rimanere sopra i 70-75 gradi. Cosa sta succedendo? Il prodotto passa da congelato a decongelato, con l'acqua che va in penetrazione dolcemente fino al cuore li cuoce e c'è un fissaggio della struttura dei funghi, lo vedrete fra poco. Sorrido, perché in questo modo il fungo è sbianchito precotto, grazie a questa soluzione perde meno liquidi e guardate adesso, quasi come a doverlo mettere in barattolo, in conserva, li fate scolare bene. Vado sul tagliere, taglio a pezzi e ora sorrido perché sconvolga ancora gli schemi. Mi dispiace, io non rovino l'olio, ma utilizzo olio di grande qualità, in questo caso potete utilizzare un fruttato anche intenso. Il sale non lo metto più, mettete dentro aromi che volete, io metto aglio, ma non ho detto che potrebbe essere scalogno, anche spezie, insomma divertitevi. Vado sulla piastra e inizio la rosolatura. Pochi secondi e vedrete la differenza. Controtendenza alle mie abitudini, questa volta il coperchio non c'è. Perché? Perché voglio evaporazione, riduzione di acqua e rosolatura nella parte in basso. I funghi, come i carciofi, hanno una bassa penetrazione dei grassi all'interno, che significa che fin quando lasciate l'acqua prendono poco olio, quindi ci sta bene, eccolo, è lui. Provate a saltare i funghi con burro, scalogno, stecca di cannella, anice stellato e una macinata di pepe. Un altro sapore, differente dall'italianità classica. Il pacco era lo stesso e ditemi che sono uguali. Adesso è un bel filetto fatto bene alla griglia, alla brace. Ho delle tagliate lì, a me piacciono sottili, all'uovo, fatte in casa, giù, su, funghi, non risottate, scolate, condite coi porcini. Questo è quello dei congelati, in frigorifero, sul lavello, in padelle antiaderenti, con una resa. E questa è con la mia tecnica. Dai, non lo dico da solo, ditelo voi. Funghi porcini in un minuto e mezzo. Questo è solo l'assaggio della mia Accademia delle Stagioni 150 lezioni su Club Academy.